Pavia set di un film d'azione di risonanza internazionale. Ecco quanto annunciato in conferenza stampa dal sindaco Massimo De Paoli e che vede come protagonista l'attrice Maria Grazia Cucinotta e Ardon Schwarzenegger. Le riprese saranno girate nel centro storico di Pavia con oltre 150 comparse ricercati tra i tifosi del Pavia Calcio. Sì, è un'importante occasione di far conoscere Pavia a una platea che definire vasta e dir poco come quella cinese. Il traino sarà l'Expo, però noi guardiamo anche oltre nel senso che grazie alla collaborazione con il Pavia Calcio si è creato un legame con la Cina. Con questo film naturalmente il legame si svilupperà ancora di più e pensiamo davvero a quante persone potranno rendersi conto delle bellezze che offre la città di Pavia. In primavera la produzione cinese sarà in città per circa un mese affinché questo lavoro sia poi presentato alla Mossa del Cinema di Venezia. In questo film facciamo questa proposta a tutti i suoi progetti sia dal punto di vista dell'economia anche dal sport Pavia Calcio quindi diciamo è un ponte da Pavia e Cina. La pellicola è strettamente legata al Pavia Calcio grazie alla collaborazione di Mr. Zhu e sarà presentata ufficialmente a Milano il prossimo 30 gennaio. Dottore Alessandro della Giovanna, la città di Pavia e il Pavia Calcio veicolano due iniziative molto importanti legati sia ai biglietti che al concorso di Miss e Mr. Pavia stesso. Ci spiega gentilmente nel dettaglio? Certo, parto da un cappello generale che è quello del Pavia Calcio del momento storico che stiamo vivendo e quindi di avere tutta la cittadinanza e la tifoseria il più vicino possibile. Quindi la prima iniziativa riguarda i biglietti quindi chi acquista il biglietto per la partita di Pavia-Monza gli verrà consegnato entro il 6 di febbraio il biglietto omaggio per poter vedere la partita con l'Alessandria. Quindi tutte le modalità saranno indicate sul sito tutto sarà scritto ma in poche parole chi acquista il biglietto per il Pavia-Monza riceve gratis il biglietto omaggio da ritirare presso le nostre biglietterie entro il 6 febbraio per poter vedere nello stesso posto la partita con l'Alessandria. A fronte della promozione invece che stiamo facendo per promuovere Pavia il territorio e del cui il Pavia Calcio ne è promotore abbiamo in produzione come avete già saputo un film che promuoverà tutto il territorio pavese. Per far sì che la cittadinanza venga coinvolta durante le partite giocate in casa e sabato verranno lanciate verrà lanciato un concorso per scegliere mister e miss Pavia che saranno eletti dai tifosi in modo che possano fare le comparse in questo film. Tutte le modalità, tutte le iscrizioni e tutto quello che concerne la votazione che voteranno i tifosi saranno indicati su Facebook con un sito dedicato e sul nostro sito ufficiale.